un recording ok dunque ci mancavano un paio di slide da vedere che però sono importanti per questo le ho lasciate nella parte successiva per dargli il dovuto tempo e come usare bootstrap perché abbiamo iniziato a usare bootstrap e ovviamente non vogliamo perdere questa possibilità non ho ben chiaro l'esempio del dynamic state mi dice qualcuno sulla chat sì, non è che dobbiamo per forza capirlo nel senso passeremo la prossima settimana a parlare di state però, ok, giusto in breve fondamentalmente nel momento in cui vogliamo usare uno stato dobbiamo dirlo a react react ci mette a disposizione la funzione useState noi la usiamo e gli diciamo guarda, vogliamo uno stato una variabile di stato e lui ci ritornerà una variabile di stato una callback che serve a modificare questa variabile di stato questo è il modo react di fare le cose gli passiamo come parametro un valore iniziale e poi semplicemente quando abbiamo bisogno di modificare lo stato chiamiamola callback che ci è stata fornita punto ok siccome modifica la variabile questa variabile controlla come è visualizzato il button cioè se viene scritto ciao o viene scritto hello allora posso cambiare la visualizzazione ok mi rendo conto che è una spiegazione un po' sbrigativa ma diciamo ci spenderemo una lezione intera probabilmente anche di più perché appunto lo stato è uno degli aspetti fondamentali dell'applicazione web e ovviamente dobbiamo capire come react se lo gestisce allora dicevamo di bootstrap come facciamo diciamo dove è stata definita la callback la callback è stata creata per noi da useState e semplicemente è stata assegnata a setButtonLang react l'ha creata per noi è una callback che lui sa che che deve modificare uno stato e dobbiamo fargliela creare a lui perché se no non sa che deve modificare uno stato però ci torniamo su queste cose vogliamo far vedere una cosa che non fosse semplicemente un vabbè scrivo it compare it scrivo n compare n che ci fosse almeno un click ok bootstrap ok potremmo andarcelo a caricare nell'index html abbiamo visto che c'è l'index html editabile se anziché react app ci scrivo la mia mia applicazione c'è niente di male posso editarlo cosa capita? che qui sopra c'è scritto la mia applicazione nel tab adesso mi si apre il coso la mia applicazione anziché my app ok quindi è editabile come tutti gli altri file però non vorrei usare questo sistema perché? perché non si integra con react esiste una cosa che si chiama react bootstrap che è una libreria bootstrap c'è un css bootstrap con del javascript apposta pensata specificatamente per react e quindi vorrei usare quella versione lì perché? ma perché ha dei componenti già fatti apposta per l'ambiente react quindi quando devo usare il bottone devo usare la tabella devo usare il non so qualsiasi altra cosa è già stata pensata come componente react ok come faccio a usarla? beh devo installarla npm install react bootstrap e bootstrap quindi facciamo queste due cose quindi fermo ctrl c npm dentro il prova 1 dentro il mio progetto npm install bootstrap react ci mette un pochino ma meno diciamo del se ho la rete si ma la rete dovrei averla se vi parlo meno ah no scusate react bootstrap però ho sbagliato forse funziona in entrambe le maniere vabbè vediamo cosa succede probabilmente ha messo entrambi i nomi ok va bene e poi cosa facciamo dobbiamo fare quello che c'è scritto sulla slide cioè aggiungere l'import nell'app.js possiamo importare anche i css prima di tutto lo facciamo mincss ok quindi npm install bootstrap react la versione dei componenti di react fatta in bootstrap cioè i componenti bootstrap quindi gli elementi bootstrap trasformati in componenti react e poi dobbiamo bisogno del bootstrap normale che o ce lo mettiamo sulla cd cioè andiamo a prendere la cdn ma di nuovo dobbiamo andare a modificare l'html oppure facciamo che scaricarlo localmente come c'è l'index html ci sarà dentro bootstrap il nostro bootstrap mincss il nostro css di bootstrap quello che dà i colori, le forme tutte le cose a cui siamo abituati e poi come usarlo lo usiamo in questa maniera allora lo importiamo questo importa il css numero uno senza css non facciamo niente numero due importiamo i componenti che ci servono proviamo questa applicazione è sempre un solito bottone non c'è niente di particolare solo che dentro un container bootstrap dentro una riga e una colonna ok quindi quello che prima scrivevamo nel vecchio bootstrap come div, id, container, ecc poi scriviamo div, class, row, ecc lo scriviamo come componenti ci prenderete la mano è solo questione di abituarsi quindi per usarli ovviamente dobbiamo prima importarli quindi andiamo a farlo qui intanto ha funzionato tutto bene quindi facciamo paste ovviamente dalle slide mi sa sempre fare un po' attenzione ok react bootstrap dunque me lo fa grigio un po' l'attivo ok ah no me lo fa grigio semplicemente perché non li ho ancora usati sì quindi vado sulla sulla slide se volete ok quindi vado a prendere il codice faccio copia ancora che faccio prima copia queste slide sono un po' fastidiose per fare questa operazione formatto decentemente ok quindi da button prendo il bottone lo chiamo my button lo chiamo my button lo uso però l'ho messo dentro dei componenti bootstrap oh mi si è sparito no slack ok ahioioi can't resolve react allora mi sa che dove ho sbagliato e non funzionava chissà cosa ha combinato prima era non era bootstrap react era react bootstrap abbiate pazienza conveniente di farle prova il volo e aspettiamo un secondo e intanto andiamo a vedere cosa c'è dentro button dentro button c'è il mio button solito ok no quindi questo è il mio bottone adesso dobbiamo aspettare che lo scarichi e poi la proviamo però vedete che fondamentalmente non è che c'è niente di particolare da fare tranne un paio di import uno per il CSS uno per gli elementi che andremo ad utilizzare come facciamo a sapere quali sono e andiamo a vedere sul sito nel senso che come in bootstrap non è che sapevate tutte le classi guardate no quali sono ci sono più o meno le stesse classi che c'erano nel bootstrap diciamo così normale quindi nel momento in cui voglio un bottone vado su buttons e ci saranno gli esempi e vedete che non c'è più button minuscolo class uguale eccetera questo è button maiuscolo nel senso che è proprio un componente in stile react se noi prendiamo il bootstrap vecchio bootstrap vecchio questo è il bootstrap diciamo così normale il bottone qui c'è un button ma che è un elemento html type button class e ci mettevo sulla class che volevo e facevo il mio button e quindi veniva bello carino azzurro grigio eccetera a seconda del tipo che gli avevo chiesto no ok questo è il bottone il bottone react bootstrap è uguale solo che è un componente no quindi va uno importato perché è una funzione cioè qualcuno c'è scritto una funzione che fa la stessa cosa del bottone e due va scritto in questa maniera ok adesso dovrebbe aver finito speriamo sì quindi start apro sì me l'ha aperto lui nel browser quindi devo sempre dargli un attimo di tempo perché lui all'inizio carica compila tutto eccetera quindi ci mette sempre un istante ecco quindi allora intanto vi faccio vedere che ci no dove è andata a finire non vedo i componenti caricato il file giusto forse non ho salvato non vedo i componenti ecco non avevo salvato c'è il pallino salvo ok sempre questa questione di salvare adesso mi ricarica da solo per questo li vedo già ci sono i componenti bootstrap container row call ma questo è ancora il bottone html normale no come faccio a usare il bottone bootstrap ultima cosa poi andiamo avanti beh non uso il mio bottone ma vado a prendere il il bottone di bootstrap no quindi dovrebbe essere anche sulle slide diciamo che lo uso direttamente nel mio bottone nella mia funzione quindi button la devo chiamare diversamente se no faccio poi pasticcio perché il bottone di bootstrap si chiama button e dalla slide vado a prendere import button ok quindi oltre a importare la faccenda dello stato import button from react bootstrap e questo con la b maiuscola sapete che case sensitive da chiudere correttamente tra l'altro ce li fa in verde così ci ricordiamo perché è sottolineato questo cosa che non va niente adesso ho bisogno di pensare quindi questo è il bottone di react bootstrap ok questo è normale quindi con l'evento agganciato vediamo cosa si vede e questo si vede il bottone bootstrap no poi se voglio cambiare l'aspetto devo andare a vedere il manuale no voglio la primary ok variant non è più class come prima c'era il class certe cose sono diventate delle proprietà dei componenti quindi devo andare a vedere sul manuale che proprietà è che so facciamo che so variant success verde si vede no copia e vado vado a mettercela una proprietà ok salvo vado a vedere dove mi è finito la mia applicazione ecco bottone verde ok my button è il componente mio che dentro usa il componente di bootstrap che ha tante proprietà ecco tra l'altro qui è anche utile per vedere le varie proprietà e in più ha variant success che ho deciso io tra l'altro come sempre come in tutti i debugger che si rispettino potete anche pacioccare un pochettino nel debugger e quindi cambiare le proprietà eccetera per fare qualche prova ok direi che abbiamo già visto tanto quindi ovviamente vi metto a disposizione poi questi file fate solo attenzione a come li usate nel senso che chiaramente se usate un'app con scritto import button poi nella cartella dovete avere un file che si chiami button e fate attenzione ai nomi che date e così via ok quindi abbiamo visto tutto quanto e adesso ci possiamo focalizzare diciamo sul cercare di andare a capire quello che abbiamo fatto guidati in questo esempietto semplice no? che come vi dicevo giustamente qualcuno chiedevamo come funziona eccetera adesso diciamo tutto il resto del corso lo passiamo a capire come funziona React e in particolare come far funzionare al meglio i componenti lo stato le proprietà lo stato e così via quindi a parlare più diffusamente di proprietà GSX lo stato eventi eccetera quindi questo è quello che ci aspetta una lunga strada ok quindi andiamo nella seconda parte di questa mattina cominciamo delle cose semplici chiaramente e in laboratorio avrete delle cose semplici da fare e quindi ci sarà da prima cosa rifare la pagina usando dei componenti quindi create React App e cominciare a metterci dentro dei componenti come abbiamo fatto stamattina i più semplici possibile quindi cominciando dai componenti HTML che sono quelli che sono i più semplici possibili sono già pronti da usare senza doverli andare a caricare importare eccetera ok quindi come creiamo gli elementi come funziona il GSX un po' più nel dettaglio eccetera eccetera allora il meccanismo è quello che vedete sulla slide cioè siamo partiti da React DOM render element target node qui abbiamo messo il get element by id adesso avete visto dove sta c'è un div id root che è nel default dell'applicazione React preparata dal create React App e l'element è quello che ci scriviamo può essere un componente quindi può essere un componente che contiene altri componenti può essere un elemento HTML che contiene altri elementi e così via come facciamo a crearli dovremmo usare il create element ma abbiamo detto che poi non lo facciamo perché in realtà usiamo il GSX dobbiamo dirgli il tipo le proprietà e gli eventuali figli possiamo farlo con la sintesi semplificata del GSX ok come facciamo a creare un nostro componente un nostro componente per React non è nient'altro che una funzione una funzione a cui diamo il nome qui c'è X e che prende come parametri le proprietà il props e che ritorna un albero di elementi HTML piuttosto che componenti e così via quindi questo è lo schema in cui ci muoviamo andiamo a vedere i vari pezzettini dunque un elemento è un normalissimo oggetto React che descrive o un componente o che descrive un elemento DOM quindi gli elementi HTML di base div p h table eccetera e le sue proprietà cioè in parole povere le proprietà del componente le proprietà degli attributi degli attributi dell'elemento HTML il React element è una rappresentazione di quello che andiamo a poi a vedere nel DOM ma in realtà è l'oggetto che sta nel virtual DOM vi ricordate prima parlavamo del virtual DOM c'è il virtual DOM e poi c'è il DOM il DOM non lo tocchiamo mai lo tocca solo React il virtual DOM sono gli elements che creiamo noi cosa contiene il React element contiene il tipo ovviamente deve dirci qual è il tipo se il componente l'abbiamo creato noi è un tipo diciamo custom nostro gli abbiamo dato noi il nome se il componente rappresenta un elemento del DOM avrà il suo nome div PH1 eccetera poi dobbiamo dire di quali sono le properties e abbiamo visto che nei nostri componenti li passiamo React le passa come parametri cioè un unico oggetto che ha una serie di campi che sono le proprietà una di queste proprietà ci dice quali sono i figli che ci sono all'interno ok e li possiamo creare anche noi nel return mettendoli dentro quando creiamo il componente però lo fa il JSX per noi quindi non è un'istanza di un pezzo di pagina ma è una descrizione di come crearla cioè una funzione non è un elemento del DOM non è un oggetto nel DOM è una funzione che l'abbiamo creata noi o che sia già creata perché in React vengono quelle già create che corrispondono agli elementi classici del DOM div h1 eccetera eccetera gli elementi non hanno metodi che possono essere richiamati da noi programmatori ok quindi questo è da mettere bene in testa non ci sono metodi che dobbiamo richiamare noi ci pensa React React chiama la funzione che corrisponde al componente quando bisogna di farne il render cioè di visualizzarla e quindi di capire che cosa c'è dentro per poi metterla dentro alla visualizzazione del browser punto quindi il tipo è una stringa che ho predefinita div h1 eccetera eccetera oppure è il nome che abbiamo dato noi di solito i primi sono minuscoli i secondi iniziano con la lettera maiuscola come abbiamo fatto noi button my button eccetera ovviamente quando creiamo noi il nome lo decidiamo noi le proprietà sono un oggetto oggetto javascript quindi graffe stanno a dire un oggetto javascript che contiene gli attributi DOM se l'oggetto è se l'elemento è un elemento del DOM quindi se un div o se un A in A è previsto che ci sia l'HREF nelle img nell'immagine è previsto che ci sia il source nel button è previsto che ci sia il type eccetera quindi quelli ci sono se l'elemento classico del DOM se invece lo creiamo noi possiamo metterci le proprietà che vogliamo e ovviamente dipenderà da noi che cosa vogliamo metterci prima abbiamo scritto lang che era il linguaggio la lingua l'abbiamo deciso noi abbiamo scritto e l'abbiamo usato punto come abbiamo deciso il nome del componente decidiamo il nome delle proprietà ovviamente sempre che abbiano un senso nel body del componente questo secondo me è un po' da cancellare nel senso che se usiamo le classi è disponibile come dis props ma abbiamo visto noi nell'esempio non usiamo le classi usiamo le funzioni e quindi è un parametro passato da react a noi quindi abbiamo props senza il dis nel nostro caso e sono rappresentati come se fossero delle proprietà degli oggetti quindi non sono stringhe come invece succede per gli attributi html ecco vi dicevo prima c'è solo da fare attenzione a un paio di casi che se vogliamo andare a lavorare con l'attributo class o l'attributo for in html sono parole chiave di javascript quindi dobbiamo usare un altro nome classname html for questo forse l'avevamo già intravisto anche per per un altro caso solo questa piccola accortezza ok figli dell'elemento deve essere come figlio si può usare semplicemente un oggetto che può essere o una stringa un numero e quindi abbiamo un componente che fondamentalmente contiene qualcosa che verrà visualizzato così com'è come il p il p contiene il testo del paragrafo oppure può essere un elemento react a sua volta quindi il componente figlio oppure può essere un array di componenti ok quindi nel momento in cui mettiamo qualcosa dentro può essere o testo da visualizzare o un componente o un array di componenti e tutto ciò che sta dentro dovrà poi essere messo dentro i componenti figli se ci sono delle cose ok quindi esempio qui a sinistra vediamo un esempio fatto con nodi DOM quindi abbiamo un button che ha come class un certo valore e dentro button c'è minore b quindi l'elemento b con testo ok ok se noi scrivessimo un qualcosa di equivalente con i componenti react scriveremo un qualcosa di molto più semplice type button che l'abbia creato bootstrap che l'abbia creato io non fa niente questo è un un tipo definito da qualcuno quindi un componente definita da qualcuno una funzione in parole povere in react che ha delle properties perché in react hanno delle properties i componenti le properties sono quelle che definiamo noi che sono color eccetera tutto quello che vogliamo e poi c'è una property speciale che sono i figli in cui ci mettiamo dentro quello che vogliamo metterci nel caso in cui vogliamo metterci solo testo ok mettiamoci solo testo quindi ciò che sta a sinistra si traduce in codice html di questo tipo button class button button blu cioè quello che abbiamo scritto qui class da un class name abbiamo detto perché scriviamo class name come figlio c'è b quindi tipo b con proprietà children ok e quindi c'è il testo ok in realtà andrebbe scritto sulla riga ma per visualizzarlo meglio l'abbiamo messo a capo perché di a capo non ci sono ok per i componenti cosa succede succede che nel momento in cui abbiamo i componenti react ce lo trasformerà in una roba di questo tipo quindi diventerà un button con delle proprietà con i suoi figli che hanno il cui figlio che è solo b avrà come contenuto ok punto esclamativo quindi i componenti incapsulano l'albero degli elementi che vengono generati secondo le loro proprietà no cosa succede quando react decide che deve essere visualizzato il componente chiede al componente di come vuole essere visualizzato cioè chiama la funzione che corrisponde al componente il componente esegue la funzione questa funzione cosa fa fa un return di qualcosa il return di un albero di componenti che nel caso più semplice può essere semplicemente un elemento che corrisponde a un nodo DOM nel caso più complicato saranno altri componenti react ricorsivamente chiederà a questi componenti di renderizzarsi cioè chiama la loro funzione e va avanti fino a che ha solo più dei nodi DOM nel momento in cui ha solo più dei nodi DOM deve solo poi portarli nel DOM reale del browser e quindi fare in modo che la visualizzazione compaia c'è una domanda con il react component dove abbiamo specificato che il figlio è di tipo B e dunque qui mi sa che non l'abbiamo fatto type props e di tipo B e secondo me l'abbiamo cioè secondo me l'abbiamo specificato quando abbiamo scritto la funzione button e abbiamo scritto il jsx di quella funzione quindi abbiamo scritto ci sarà function button aperto ton da props e poi ci sarà return minore B maggiore eccetera quindi il codice viene eseguito quel codice che abbiamo scritto viene eseguito perché per i nodi DOM non c'è nessun codice da eseguire perché è già stato scritto dentro la libreria di react nel nostro invece c'è del codice da eseguire quel codice quello che viene eseguito e quindi quando noi scriviamo minore B maggiore in jsx che poi viene tradotto in create element eccetera eccetera lì viene creato il B ok comunque adesso questa è la teoria che ci sta dietro in realtà poi avete visto la pratica è quello che abbiamo visto nell'esempio cioè noi ragioniamo dicendo ok vogliamo un componente c'è un componente button ci facciamo return tutto il codice html che vogliamo scritto con quel formato del jsx cioè praticamente in codice html semplicemente in certi attributi certe proprietà faremo attenzione a cosa metterci sulla base delle proprietà che riceviamo ok convenzioni anche se le ho già anticipate gli elementi del DOM sono sempre scritti in minuscolo dp li eccetera come abbiamo fatto anche negli esempi i componenti react iniziano sempre con la lettera maiuscola sì quindi in realtà sarebbe la prima no sempre maiuscola in generale sia che le facciamo noi buona buona norma sia che li prendiamo già fatti come avete visto il button di bootstrap come tutti gli altri i due tipi possono essere mischiati annidati eccetera combinati in qualsiasi maniera no perché e come funziona l'html no cioè se abbiamo un nodo radice in cui mettiamo il div o quello che vogliamo dentro il quale ci mettiamo tutto il contenuto che vogliamo altri div piuttosto che tabelle liste paragrafi ed tutto quello che vogliamo è tutto annidato in una struttura perfettamente ad albero tra l'altro ecco un requisito di react lo vedremo tra un attimo e poi che sia tutto perfettamente annidato cioè quando apro il tag deve esserci il chiuso altrimenti mi darà errore perché non sa più come costruire jsx abbiamo visto la sintassi ma qui diciamo due parole in più praticamente sono pezzetti di xml xml vuol dire non dico non dico html ma dico xml per dire che devono essere sempre tutti chiusi o che si chiudano automaticamente perché c'è anche questa sitasse alternativa se non ho attributo anzi se non ho contenuto da mettere posso anche scriverlo in questa maniera quindi tipo che so img img è il classico tag che non ha contenuto no minore img src uguale a quello che voglio far vedere poi chiudo la col maggiore e poi di solito in html non scrivo altro ma questo non è xml corretto perché non c'è il tag di chiusura dovrei aprire quindi minore slash img maggiore ma siccome non c'è mai niente da scrivere esiste questa sintassi abbreviata che se metto lo slash alla fine del primo tag è come se l'avessi chiuso senza figlio ok quindi se voglio scrivere il mio jsx abbiamo già visto gli esempi nome del componente o nome del tag html secondo che sia un tag html ci saranno a disposizione cose differenti quindi i nomi degli attributi classici html piuttosto che i nomi delle proprietà che definisco io quando programmo il mio componente notate che posso attribuire dei valori string piuttosto che delle espressioni javascript semplicemente apprende chiudendo la parentesi graffa quindi questo attribuisce il valore 2 ok quindi 2 numerico non string ok ed equivale a create element come abbiamo visto prima my button che quindi è una funzione che qualcuno l'avrà definita come componente da qualche parte con i suoi attributi o meglio proprietà in questo caso e con i children no quello che abbiamo visto prima tre cose type props children type props children ripropongo la domanda si possono estendere ah si scusa non l'avevo visto mi sa allora si possono estendere i componenti di bootstrap per poter passare delle custom props estendere i componenti bootstrap no temo di no nel senso perché vorrebbe passare delle custom props perché dentro un componente bootstrap vorrebbe annitare qualcosa di su e quindi ricevere quella props bisognerebbe bisognerebbe verificare se 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 bootstrap lo fa di su o non lo fa comunque c'è poi una maniera per cui si può fare comunque che è il contesto però come abbiamo fatto con la component button creata da noi passando lang e si però quando l'abbiamo fatta noi passando lang cioè se qui dentro mettessimo della roba cioè qui dentro noi abbiamo la visibilità di props no cioè se qui mettiamo il nostro componente my component e vogliamo scrivere qualcosa qui dentro abbiamo props cioè props lang se vogliamo cioè qui dentro lo possiamo scrivere se lei vuole passare la la proprietà dentro button e perché vuole che in qualche maniera button utilizzi quella proprietà però diciamo che se il componente lo scrive lei qui può scrivere quello che vuole se il componente si cioè se se ha bisogno se ha bisogno di di un comportamento diverso dal componente di bootstrap sicuramente deve l'ideale sarebbe come scrive conviene creare un componente custom che contiene i component di bootstrap esatto come abbiamo fatto qui d'altronde qui c'era anche lo stato però diciamo che in generale si conviene fare così perché il componente che ci viene fornito da un terzo cioè o ha previsto di usare la proprietà e allora ce lo scrive nel manuale o se non ha previsto di usarla diciamo non è che c'è tanto che possiamo fare dovremmo riscrivercelo se è qualcosa su cui possiamo agire cioè appunto il contenuto interno possiamo farlo wrappandolo come abbiamo fatto qui come suggerisce il vostro collega con un altro componente nostro se invece dobbiamo modificare un comportamento di quel componente che però è stato fatto da qualcun altro diciamo che siamo un po' nel caso in cui fino all'altra volta volevamo modificare un comportamento di default di bootstrap che non ci andava bene e allora diciamo siamo un po' in quel caso limite in cui diciamo prendiamo una libreria ma non mi va bene come è stata fatta questa libreria e quindi cominciamo a perdere l'utilità di usare quella libreria possiamo andare a modificare il css di bootstrap però dobbiamo fare attenzione a non fare pasticci ok quindi diciamo che nella maggior parte dei componenti fondamentalmente dovremmo poter agire direttamente in quello che mettiamo poi come figlio del componente ok abbiamo fatto una piccola deviazione ma sempre bene ok quindi sintassi jsx da ricordarsi è tag aperto chiuso oppure tag direttamente chiuso se non abbiamo niente da metterci dentro dove lo possiamo mettere jsx dovunque possiamo scrivere un'espressione javascript perché perché alla fine babel quindi questo traduttore che sta nei 270 megabyte che abbiamo scaricato lo tradurrà in codice javascript quindi dovunque ci stia del codice javascript valido possiamo scrivere del jsx quindi non solo nei componenti possiamo addirittura immagazzinarlo come valore dentro gli array gli oggetti eccetera ma perché in realtà stiamo immagazzinando del codice javascript no cioè eseguito ma del codice javascript no quindi alla fine è il valore di ritorno di react create element che sarà un oggetto quindi possiamo metterlo dovunque ovviamente lo possiamo anche racchiudere tra parentesi tonde eccetera come qualsiasi espressione javascript quindi possiamo anche scrivere qualcosa di questo tipo no quindi ecco notate che se non lo chiudiamo dobbiamo chiuderlo in questa maniera potremmo chiuderlo con aperto quindi minore message slash maggiore se non abbiamo niente da scrivere ma dobbiamo solo passare attributi proprietà eccetera proprietà in questo caso dobbiamo chiuderlo perché sennò ci dare errore e questo ce lo dà direttamente react nel momento in cui esegue il codice e lo vediamo fuori sulla console o nel terminale o nel browser ok quindi è un'espressione javascript posso farne cosa voglio cioè posso racchiudere tra parentesi tone e così via ok che nome diamo ai ai nostri componenti il nome che vogliamo occhio però che dobbiamo soddisfare tutte le regole di javascript nel senso che non è un nome basta cioè è il nome di una funzione quindi quella funzione deve essere stata definita da qualche parte cioè deve essere in scope e se non lo è dobbiamo fare in modo che lo sia quindi se in un altro file dobbiamo importarla come abbiamo fatto prima in più siccome il jsx viene tradotto in codice javascript bisogna anche importare react quindi come abbiamo fatto prima ecco se vogliamo usare my button non basta scrivere minore my button ma qualcuno deve averla importata nel file button e nel file button abbiamo fatto questo export se vi dà fastidio tutto questo meccanismo facciamo prima prendiamo questo che è la cosa che vi consiglio di fare all'inizio lo mettiamo qui rimarrà un file un po' più grosso avrete un po' di pazienza in questi primi in questi primi giorni e avete sempre tutto in scopo ok il nome del tag in realtà è il nome cioè è un identificativo e quindi non può essere un'espressione cioè il nome di una variabile quindi non possiamo scrivere un'espressione javascript come nome di una variabile se abbiamo bisogno di selezionare qualcosa sulla base del contenuto di una variabile cioè il componente a piuttosto che il componente b in questo caso è argent button piuttosto che normal button e dobbiamo scriverci un po' di codice quindi pezzettino dobbiamo dobbiamo fondamentalmente farci un mini componente che che ci seleziona quello che ci serve quindi questa è una piccola limitazione ma vedrete che tendenzialmente non è una limitazione così come dire così forte cioè non abbiamo in parole povere quella sintassi in cui potevamo scrivere aperta chiusa quadra col nome di una variabile e assegnavamo la proprietà di un oggetto sulla base del contenuto di un'altra variabile in parole povere ma insomma non è così non è così una tragedia tutti gli attributi del tag cioè quelli che hanno l'aria di essere attributi come questi se questo fosse un elemento html questo sarebbe un attributo dell'elemento html tutti quelli scritti in questa maniera così come abbiamo visto negli esempi sono proprietà sono proprietà dell'elemento react e quindi diventano un props che viene passato come parametro che è un oggetto che contiene come chiave il nome dell'attributo e come valore il valore che è stato dato all'attributo che in realtà però chiamiamo proprietà come abbiamo già visto prima color blu stringa shadow size 2 qui l'avevamo scritto come numero ecco fate solo attenzione che se dovete scriverlo come espressione javascript per esempio i numeri dovete metterlo tra aperte e chiusa graffe queste non sono le aperte e chiuse graffe di un oggetto questo non è un oggetto ma è la sintassi che usa Babel per capire quando nel jsx vogliamo scrivere del codice javascript per scrivere del codice javascript nel jsx dobbiamo farlo capire in qualche maniera come si fa a farlo capire si apre chiuse e chiude una parentesi graffe per esempio log uguale true true valore boolean javascript oppure può esserci anche un'espressione un po' più complicata ovviamente senza esagerare come sempre però tipo la classica espressione col punto interrogativo per cui un valore un altro sulla base del valore di una variabile possiamo di una condizione possiamo fare ok ecco il contenuto tra il tag è passato come una proprietà speciale props children cioè c'è un 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 campo children nell'oggetto props che ci viene passato come parametro della funzione che rappresenta il componente in cui ci troviamo tutti i children di quel componente può essere una stringa come abbiamo visto prima il testo semplicemente quindi si finirà lì perché se stringa è il testo che verrà visualizzato hello world piuttosto che possono essere altri elementi jsx scritti in qualsiasi forma quindi come espressione javascript e vi ricordo nel momento in cui apriamo e chiudiamo la parentesi gaffa non è che perdiamo la possibilità di scrivere del jsx e solo per dire a babel occhio che quello che c'è scritto è javascript ma poi anche il jsx diventa javascript quindi possiamo scrivere una espressione javascript come prima che ritorna una stringa come questa piuttosto che un'espressione javascript che ritorna un array di elementi jsx che sono inseriti in questa maniera come fratelli allo stesso livello una funzione javascript che può essere usata come una callback o qualsiasi cosa che il componente sia in grado di comprendere e renderizzare correttamente però in questi casi diciamo sono un po' più rari che dobbiamo gestirli diversamente poi nel componente espressioni che possiamo scrivere come espressioni nel children del componente in formato jsx bene possiamo dobbiamo anzi aprire la graffa quindi graffa aperta e chiusa possiamo scrivere direttamente o un componente con la sintassi jsx oppure un array di componenti quindi vedete qui per esempio in questo esempio qui abbiamo del jsx user menu dentro del javascript questo punto interrogativo eccetera il codice javascript dentro del jsx ul per dire che è iniziato codice javascript c'è questa parentesi graffa rossa in questo caso che mi dice che inizia il codice javascript ma dentro il codice javascript posso mettere altro jsx unica accortezza occhio che se ritorno un valore undefined null o boolean falso quanto c'è scritto non è renderizzato cioè react ci dà questa possibilità voglio far sparire una cosa ho solo da fare in modo che return ritorni undefined null o false e quindi mettendo insieme qualcosa che spero vi ricordiate ancora della sintassi javascript con queste sintassi doppia e commerciale possiamo fare per esempio un contenuto che solamente se user level è uguale ad admin viene renderizzato altrimenti non si vede niente e questo è il modo per far apparire e sparire dei componenti in react in maniera estremamente semplice possiamo anche scrivere if user level uguale admin render admin menu si può scrivere ma come sapete javascript piace essere sintetico e quindi questo modo di scrivere è un qualcosa che troverete spesso all'interno del codice react cioè di applicazioni scritte secondo framework react ok c'è ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare col jsx e ne parliamo perché appunto in laboratorio dovrete poi per prima cosa provare a scrivere un po' di jsx che è la cosa più semplice per iniziare senza cominciare a lavorare sulle properties eccetera prima cosa imparare un minimo di jsx c'è ancora un piccolo problema con l'html cioè ci sono degli attributi che non hanno un valore per esempio tipicamente sui form option selected input disable non c'è scritto selected uguale true o disabled uguale false eccetera è semplicemente la presenza o l'assenza dell'attributo in html decide come si comporta quell'elemento ecco in jsx non funziona così in jsx bisogna sempre dare un valore quindi se lo vogliamo inserire dobbiamo scrivere selected uguale true ok con l'aperta e chiusa graffa perché è il valore true di javascript se non lo vogliamo mettere possiamo anche scrivere selected uguale false con l'aperta e chiusa graffa chiaramente è meno utile perché è come se non avessimo scritto niente il risultato sarebbe uguale quindi per farli comparire però dobbiamo ricordarci che non basta scrivere bisogna scriverci uguale aperta graffa true chiusa graffa quindi possiamo scrivere false o niente se non abbiamo da visualizzare non abbiamo da inserire l'attributo quando viene fatto poi il render da react e quindi portato poi nel do ultima cosa sembra banale commenti non esistono purtroppo diciamo che se volete mettere un commento quindi abbiamo del jsx dobbiamo commentarlo come si fa e si usa questa forma perché il commento html non funziona e quindi dobbiamo dire vabbè il codice javascript come tutto il codice javascript può essere commentato slash asterisco asterisco slash però dobbiamo dire che javascript quindi aprire graffa e chiusa graffa e qui come abbiamo scritto sulle slide sì è brutto ma è l'unico modo quindi questa se volete è una delle cose più brutte che troviamo e quindi se noi proviamo a far così questa roba non funziona vedete che ce la segna anche lo salve ho semplicemente salvato volete farlo sparire aperta graffa ok adesso funziona perché adesso è codice javascript aperta graffa codice javascript ciò che segue il codice javascript la prima cosa è un commento javascript e fine ok poi ovviamente vabbè adesso ho commentato una cosa ci sarà qualche errore va bene ma non fa niente no ho spogliato slide ok quindi questa è la situazione bisogna un po' farci la mano ogni tanto direte aspetta tiro via questo questo gsx slash 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 non va bisogna metterci la graffa ok ci sono ancora piccoli dettagli da sistemare quando passiamo delle proprietà a un nodo in DOM nativo certi attributi hanno dei nomi leggermente diversi quindi attributo on change per esempio che abbiamo usato prima che in realtà era sull'oggetto diciamo di react però si chiama on c maiuscola camel case nel senso che la prima è minuscola e tutte le altre sono maiuscole quindi andiamo a vedere dove ho fatto button vedete c'è l'on click e così non funzionerebbe dobbiamo ricordarci che mentre nel html lo scriveremo con la minuscola e qui non va bene tutti piccole cose che adesso elenchiamo poi vedrete che con la pratica vengono fuori anche perché poi salta fuori un errore con react che non riconosce qualcosa e capite cosa c'è che non va altra cosa style se mai lo volessimo usare non che sia consigliato prende un oggetto e non una stringa quindi questo è leggermente diverso e questo è il motivo per cui ci vedete la doppia graffa la prima graffa è quella che apre javascript e la seconda graffa è quella che crea un oggetto javascript perché? perché style vuole in react un oggetto e non una stringa da dividersi con i punti virgola eccetera anche le gli attributi css sono da trasformare in camel case eccetera tutti dei dettagli però diciamo come riferimento è bene ricordarci ok quello che abbiamo imparato finora di javascript ovviamente si può usare quindi per esempio lo spread e visto che props è un oggetto possiamo provare a usare lo spread sull'oggetto e s8 come sintassi ma tanto poi diciamo react col suo create react app ci importa tutta una serie di pacchetti che se lo macina lo trasforma in qualcosa di compatibile con tutti i browser per cui non ce ne preoccupiamo vi ricordate come funziona il meccanismo il meccanismo dello spread è quello dei tre puntini che ci sui sugli oggetti ci enumera le varie proprietà quindi supponiamo di avere un oggetto welcome con due proprietà message recipient io voglio passare queste due proprietà che sono già in un oggetto a un mio componente a un componente in generale mio o non mio non fa niente bene posso usare la sintassi classica che è nome della proprietà uguale valore aperta graffa quindi col suo valore message aperta graffa welcome message recipient welcome recipient ovviamente non è particolarmente efficiente ci richiede solo di scrivere codice per dire message corrisponde message del recipient corrisponde al recipient non è il massimo si può usare la sintassi dello spread e bubble react eccetera insieme capiscono che se scriviamo un oggetto in questa maniera è come se avessimo scritto questa cosa a sinistra cioè ogni proprietà diventa un una props per il componente che la riceve ogni scusa no ogni come si chiama ogni ogni campo dell'oggetto ogni elemento dell'oggetto diventa una props del componente che la riceve e questo è particolarmente utile nel momento in cui devo passare delle proprietà ma ho bisogno di toglierne alcune ricordate quando facevamo gli assegnamenti con lo spread questa cosa ci poteva venire utile perché senza scrivere dei for senza scrivere dei cicli senza fare cose complicate facendo un po' attenzione alla sintassi riusciamo a tirar fuori alcuni campi dell'oggetto e a lasciare tutti gli altri per esempio ipotizziamo che dentro un mio componente button che è un componente react perché è una funzione che riceve come parametro le props qui è scritto sotto forma di arrow function potremmo scrivere function aperta tona props eccetera io voglia trattenere la props kind e passare tutte le altre al componente mio di qualcun altro all'elemento html eccetera semplicemente passando tutte le altre senza preoccuparmi di quali siano posso usare questa sintassi questa è quella che abbiamo visto nella slide precedente che le passa e questa è quella che serve ad assegnare ma separando props punto kind in kind quindi può essere utilizzata diversamente quindi che so per esempio a fare dei calcoli miei del codice mio qui decido il class name ma può essere qualsiasi cosa in others ci finiscono tutti gli altri proprietà dell'oggetto che quindi passo come props al componente questa sintassi jsx a cui vengono passate tutto il resto come props tutte tranne kind perché io l'ho isolata qui qui ho definito un altro nome e ho usato questo nome vabbè e poi questo è codice che usa button ma potevo questo è un po' inutile perché non ci sono altre props in realtà c'era un click scusate non click va a finire no no non click va a finire su button è un esempio in questo caso un po' artificioso però vedrete poi che quando scrivete del codice vero cioè per la vostra applicazione vi capiterà di passare 3 4 5 proprietà e ovviamente poterle raggruppare anche perché queste proprietà molto spesso vanno più in giù nell'albero e quindi devono essere passate ripassate da un componente all'altro quello annidato questa cosa vi può tornare utile perché vi evita di esplicitare ad ogni livello dell'albero tutte le proprietà e quindi se ne aggiungo una sopra che voglio passare fino in fondo con questa sintassi non ho bisogno di far niente perché è automaticamente passata ok quindi questo è un piccolo trucchetto che può tornarci utile ok quindi riassumendo jsx quindi anzi riassumendo quelle cose che abbiamo detto fino ad ora quindi ci sono tutte queste accortezze diciamo da a cui fare attenzione con in più un paio che sono il class e il for che sono chiamati classname html for ovviamente per gli attributi html perché se li facciamo noi sui nostri componenti semplicemente evitiamo di chiamarli in quella maniera no e e poi c'è ancora un'ultima cosa le entities html come il minore maggiore eccetera eccetera queste cose queste sintassi particolari non funzionano in jsx però jsx supporta l'unicode cioè javascript supporta l'unico ad anzi con jsx e quindi possiamo semplicemente passarli come stringhe javascript con questa sintassi aperta graffa aperta stringa e ci mettiamo dentro quello che ci pare quindi non funziona così ma funziona perché viene interpretato come testo dal jsx ma funziona invece in questa maniera comunque quando incontrate un problema di questo tipo ci chiedete oppure cercate un attimo su internet ma diciamo qui abbiamo cercato di sulle slide di raggruppare tutte le casistiche interessanti che vi potrebbero capitare nella creazione delle vostre pagine del vostro contenuto ok i componenti react prendono qualsiasi nome di proprietà che noi gli diamo perché tanto li definiamo noi sono proprietà di props sono valori dentro l'oggetto props possiamo fare quello che vogliamo i nodi DOM invece quelli predefiniti div h1 p table ecc ecc button hanno un insieme di proprietà già predefinite che sono poi quelle che siete abituati a usare in html quindi se su un button scrivete value il valore di value comparirà sul bottone e così via quindi se scrivete name sarà il name che viene usato nel form e così via quindi non possiamo scrivere quello che ci pare o meglio lo possiamo fare ma solo se ci aggiungiamo un prefisso quindi react è stato pensato in questa maniera cioè è possibile estendere le proprietà dei nodi DOM quindi tutti i nodi html solo se li scriviamo in questa maniera data trattino e poi ci mettiamo il nome che vogliamo peraltro non è così interessante perché vuol dire che mettiamo un nodo DOM che tanto di quella proprietà non se ne fa niente e se se ne facesse qualcosa un componente dentro il nostro nodo DOM quindi qualcosa che andiamo a scrivere qui nei puntini forse avrebbe più senso allora trasformare anche questo in un componente quindi evitare alla radice tutto questo problema però magari ogni tanto può essere necessario e quindi diciamo l'abbiamo nominato ok due parole ancora sui componenti quindi rivediamo quello che abbiamo visto nella prima parte della lezione e poi chiudiamo abbiamo quasi finito però serve per iniziare a scrivere due componenti appunto nel laboratorio anche se molto semplice però appunto senza stato senza niente di particolare perché ne parleremo poi quindi noi scriviamo i componenti sotto forma di funzioni e non sotto forma di classi come abbiamo già intravisto ma abbiamo detto quest'anno lo lasciamo da parte anche perché non è la direzione in cui sembra muoversi nel futuro React quindi sta andando verso una direzione più puramente funzionale quindi noi quando scriviamo un componente come scriviamo const button come abbiamo fatto prima const my button eccetera aperta tonda props che ne abbiamo visto qualche piccolo esempio che non aveva la props ma era veramente didattico nel senso se non abbiamo delle props non facciamo niente non è un componente props freccia o aperta graph insomma secondo la sintesi che avete usato o react create element ma abbiamo detto no perché noi scriviamo jsx jsx non c'è return perché qui c'è solo una riga e c'è un arrow function se no scriveremmo return aperta tonda ljsx ok quindi componenti react tutti tutti i componenti react scritti sotto forma di funzione prendono props come parametro e ritornano gli elementi react come risultato come return qui c'è un confronto con la questione classi ma diciamo non concentriamoci sulla parte destra concentriamoci sulla sinistra quindi i componenti in react sono definiti come delle funzioni con la sintesi function o con la sintesi arrow non fa niente ricevono come parametro props ritornano un albero di react element tra l'altro con un'unica radice adesso lo precisiamo bene gli elementi ritornati sono funzioni delle proprietà funzioni idempotenti come abbiamo detto cioè do le stesse proprietà il risultato deve essere lo stesso c'è scritto sotto ok funzioni pure no side effects e tutto il resto deve essere gestito con dei meccanismi react come abbiamo fatto in travisto per lo stato ma lo rivedremo perché lo stato è una delle cose fondamentali tutto il resto deve essere fatto con degli appositi meccanismi forniti da react abbiamo visto di user state eccetera ne parleremo diffusamente cosa succede nel momento in cui ho fatto una serie di componenti react e qualcuno chiama render cioè qualcuno decide che deve essere creata la visualizzazione che poi verrà trasformata in elementi DOM da react bene qualcuno ha deciso che un componente deve essere renderizzato perché è cambiata una proprietà perché è cambiato lo stato e così via un'azione ha fatto cambiare lo stato lo stato quindi quando cambia lo stato react sa che quel componente deve essere renderizzato questa cosa avviene così quindi per un componente un elemento e qualcosa è cambiato react va a chiamare o e o e render vabbè qui era nel caso classi diciamo e la funzione direttamente nel nostro caso con le proprietà per ottenere l'element tree per ogni elemento nell'element tree che non è un elemento base del DOM viene richiamato di nuovo la funzione cioè ogni componente che sta sotto il componente che è stato che ha avuto una modifica viene richiamato così da ottenere una serie di elementi DOM che costituiscono il virtual DOM che viene confrontato col precedente tutto ciò che è diverso viene modificato nella pagina nel browser ok quindi solo quando ci sono tutti elementi DOM ci fermiamo l'element tree risultante è confrontato col precedente i due virtual DOM sono confrontati esiste un algoritmo estremamente efficiente in React per fare questa cosa è appunto uno dei punti di forza di React e le differenze sono propagate cioè sono implementate nel browser DOM cioè sono rese visibili ok ultime slide semplicemente per dare qualche indicazione utile è normale creare tanti componenti React quindi non spaventatevi se all'inizio vi viene da creare 3, 4, 5 componenti React anche in un esempio semplice è normale abbiamo visto prima button ci veniva da racchiudere in un componente nostro un'altra cosa ci viene da racchiudere in un altro componente nostro così via normale di solito un componente è così oppure racchiude altri componenti per esempio abbiamo il componente visualizza un entry del blog e poi c'è il componente lista entries del blog e poi magari c'è il componente pagina blog che ha da una parte la lista entries e dall'altro altre informazioni e così via ok i componenti possono essere ripetuti con differenti proprietà per esempio quando facciamo una lista esempio l'entry del blog due proprietà titolo e contenuto ovviamente se faccio più entry non sarà lo stesso titolo e contenuto se un componente diventa troppo complicato probabilmente come quando programmiamo con le funzioni se una funzione diventa troppo complicata probabilmente è da spezzettare in sotto funzioni quindi un componente se diventa troppo complicato è da spezzettare in sotto componenti quindi regola di buon senso c'è ancora una cosa da sapere sulle liste bisogna stare all'occhio perché le liste in particolare in react sono un po' particolari vediamo questo esempio diciamo che vogliamo fare una normalissima un numbered list ul di numeri qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 può essere accidento quello che ci pare ci interessa come facciamo a farlo? function number list props questo è un componente react come fa react a sapere che è un componente? in realtà non è che lo sa noi abbiamo scritto una funzione javascript ma nel momento in cui la mettiamo dentro un jsx diventa un componente quindi react si aspetta che sia un componente ok ok prendiamo da props l'attributo numbers va bene poi su numbers che sarà un array ci facciamo map ricordate map cosa fa? scorre tutti gli elementi dell'array e ci ritorna quanto è ritornato dalla callback no? la callback prende il numero e ci ritorna lì number barra lì quindi ci ritorna un elemento un jsx con dentro il numerino questo va a finire in list items list items come dicevamo prima è una variabile che contiene un array di roba jsx diciamo così che possiamo poi usare come per esempio figlio di un altro elemento ul aperta graffa un'espressione javascript list items una variabile che contiene un array di jsx lo abbiamo detto prima quando parlavamo del jsx ok vabbè qui è per farlo visualizzare ma diciamo che questa è la cosa di base se voi aveste scritto minore number list maggiore o slash maggiore che ops slash maggiore però dando l'attributo quindi scrivendo numbers uguale numbers sarebbe stata la stessa cosa di questo ok ho creato un ul con tanti li li1 li2 li3 eccetera va bene va tutto bene c'è una piccola particolarità di cui ricordarsi in react ossia quando si costruisce una lista di elementi bisogna passare un attributo che si chiama key unico per identificare ogni item questo serve a react per far per far funzionare l'algoritmo di cui dicevamo prima in maniera efficiente altrimenti non funziona più in odn e vi stampa un warning se non un errore penso solo un warning però è importante ricordarselo perché voi come programmatori sapete quali sono gli elementi unici nella vostra lista e qual è l'identificativo unico se ho un identificativo unico nella lista è più facile capire se c'è qualcosa che è stato modificato o no se invece devo andarmi a vedere il contenuto qui è semplice solo un numero ma potrebbe essere un albero di element tree quindi potrebbe esserci di tutto lì dentro se io ho una chiave che mi dice guarda se la chiave è rimasta uguale non è cambiato niente se è modificata è cambiato qualcosa facilita di molto il lavoro di react nel capire che cosa è cambiato quindi è sempre necessario assegnare ad ogni elemento nella lista un attributo speciale che si chiama key come si fa? niente quando creiamo minore li creiamo l'attributo key uguale aperta graffa con qualche valore nell'esempio di prima se i numeri sono unici non ripetuti andrebbe bene anche number punto to string quindi è una chiave che è una string o un numero vabbè potrebbe starci forse anche il numero tipicamente questo identificativo ce l'abbiamo dipende dal tipo di applicazione però molto spesso è un identificativo del dato se io faccio una lista dei post magari ce l'ho in un database in questo database ogni post ha un id un identificativo uso quello va benissimo sono sicuro che è unico no? e così via se una lista di qualcosa costratto un database di solito c'è un identificativo unico da qualche parte non fosse altro che la chiave primaria o se no vabbè se necessario io mi inventerò qualcosa per costruire un identificativo unico le chiavi devono essere specificati quando si costruisce l'array di componenti e notate che è necessario che siano uniche solamente all'interno della lista stessa cioè se io ho più lista all'interno della mia applicazione non fa niente se le chiavi sono duplicate per esempio su informazioni che vengono da tabelle diverse è chiaro che gli id potrebbero essere duplicate ma non mi interessa perché a react interessa solo quella lista lì perché ha bisogno di fare il match e capire se c'è qualcosa che è stato cambiato no quindi l'unicità deve essere garantita solo all'interno della lista e queste chiavi non sono disponibili come props nel componente cioè diciamo così che se la mangia react e quindi se ne ho bisogno tra l'altro devo creare un secondo attributo con un altro nome che poi userò per conto mio all'interno del componente ultimissima cosa questa volta finiamo giusti ecco un componente deve sempre ritornare un albero di elementi con una sola radice questo vuol dire che o mettiamo se abbiamo più componenti da ritornare come il caso di prima il caso di prima era fortunato perché aveva l ul e l'abbiamo ritornato quindi un unico elemento che era ul quindi la nord red list ma se noi noi potevamo scrivere il return aperta graffa list items chiusa graffa è in teoria diciamo pensiamo di sì ma in pratica è un array senza una radice quindi react non gradisce questa cosa vuole una singola radice quindi o troviamo un tag container no per esempio il div di solito è il classico tag container che non fa nient'altro se non diciamo raggruppare quello che c'è dentro al suo interno però il div viene mappato sul nodo DOM cioè se io scrivo un div return div questo div compare poi nel DOM e non sempre va bene perché in certi contesti non va bene se io ho una serie di span non è che posso metterci div intorno perché se no diventa un blocco va a capo succede di tutto e quindi esiste un nodo speciale in react che si chiama react.fragment per creare da una lista di elementi un unico un'unica radice quindi tutti gli elementi vengono messi dentro react.fragment il react.fragment è speciale perché non genera niente nel DOM ok quindi posso racchiuderci dentro quello che voglio è trasparente nel DOM reale del browser lo troverete sotto forma di questa sintassi o più frequentemente in questa forma minore maggiore vuoto che non è ovviamente un tag vero in html ma un qualcosa che funziona in jsx e l'avevamo intravisto anche se non ve l'ho fatto notare perché ovviamente non lo sapevamo ancora ecco questo è react.boostrap vedete minore maggiore perché semplicemente perché se no non potete prendere questo fare copia copia return e fare una prova perché perché vi manca l'elemento poi vabbè i button magari si poteva mettere in un div se me li metto in un div magari succede qualcosa eccetera questo è react.fragment ok direi che siamo arrivati alla fine se avete dei dubbi o domande sono qui a vostra disposizione anche se sono già le 11.30 ma insomma credo che sia stata una lezione interessante dovreste avere oramai tutti gli elementi per fare il laboratorio di lunedì che verrà pubblicato a breve a breve inteso oggi pomeriggio al massimo domani mattina ok non vedo dubbi o domande su su slack quindi ipotizzo che sia un buon segno e vi lascio quindi riflettere un pochettino su questa introduzione a react e ci vediamo quindi lunedì per il laboratorio che appunto sarà su react e quindi ci sarà da fare per prima cosa create react app eccetera eccetera intanto verranno poi anche pubblicate tutte le istruzioni su come funziona il big lab 1 quindi diamo tempo di leggere eccetera lunedì e poi giovedì se ci sono dei dubbi possiamo discuterne con calma tanto sono quattro lab insieme e non ci sarà da consegnare nulla se non fin dopo una settimana del termine del lab del quarto lab quindi ci sarà da consegnare subito prima dell'inizio del quinto che farà già parte del secondo big lab ok direi che non ci sono domande per cui mi fermo qui e ringrazio dell'attenzione ci vediamo lunedì grazie 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 grazie